Una notizia di cronaca, purtroppo un motociclista di 56 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente avvenuto in via dei Frentani a Chieti. L'uomo per cause ancora in corso di accertamento si è schiantato contro un'autovettura BMW X3 nei pressi del Bivio per San Giovanni Teatino. Per il motociclista non c'è stato nulla da fare e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Chieti e vigili del fuoco oltre ai sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 56enne.